Musica Benvenuti al nostro TG Sport, cari amici di Telemolise. Per il calcio di Serie D, il Campobasso prosegue le trattative di mercato in vista dello start della stagione. Il Campobasso si è dotato di una schiera di collaboratori. Oltre ad Antonio Foglia-Manzillo, che sarà il tecnico, lavoreranno per la società Rosso Blu Carmine Cocchiarella, con funzione di vice allenatore, Gianmarco Schiavoni, preparatore atletico abilitato a Coverciano, e Pasquale Visconti, lo scorso anno preparatore dei portieri dell'Avellino. Ultimi due arrivi ufficiali in ordine di tempo, il difensore classe 91 del Duca, che nella scorsa stagione ha militato nel Sansevero, ed il baby portiere di proprietà del Chievo Verona, Salsano. Il Campobasso ha deciso per i pali di battere la linea verde del numero 1 classe 97, un doppio ruolo già coperto, visto che è stato di qualche giorno fa l'ingaggio dell'altro portiere, Mario Landi. Sei le pedine ufficiali, di cui appunto due estremi difensori, tre centrocampisti ed un difensore. Si sta lavorando all'allestimento del reparto offensivo, per ora ancora vuoto, confermate le trattative con gli attaccanti Iada Resta e Gambino, entrambe punte centrali, mentre svanita la pista che portava De Iulis, fresco di firma con il Teramo. Le chiusure delle trattative possono giungere da un momento all'altro, si punta a portare, dopo domani, in ritiro a Serino, un gruppo iniziale a cui poter aggiungere nuovi innesti in corsa. La nuova proprietà del Campobasso sta ricostruendo dalle fondamenta l'organico per la prossima stagione, con programmi ed ambizioni che sono tenute ancora riservate. I nuovi dirigenti si dovrebbero presentare alla piazza nel corso di questa settimana. In città monta la curiosità di sapere chi costituirà l'ossatura dirigenziale del Campobasso 17-18. A livello tecnico l'obiettivo è una preparazione della durata di un mese circa, con una prima interruzione dei lavori fissata per il 5 agosto, per poi far migrare, dopo questa data, squadre staff tecnico in una sede idonea da trovare nel capoluogo di regione. Rimane ancora da definire anche il ruolo di direttore sportivo del Campobasso, dopo che i nomi circolati negli ultimi giorni, cioè quelli di Gigi Pavarese, Bifulco e Lo Giudice, avrebbero espresso non poche perplessità a scendere fra i dilettanti, fermo restando un rapporto di amicizia e stima reciproca stretto con la famiglia De Lucia. Quest'ultimo gruppo, lo ricordiamo, ha stipulato con il Campobasso un compromesso per l'acquisizione del 38% di quote della società Rosso Blu, ancora non suffragato dall'ufficialità dell'atto presso un notaio. Ufficiosamente la famiglia campana De Lucia detiene la maggioranza delle quote del Campobasso. Perrucci e Daliberti sono stati firmatari del suddetto compromesso da parte Campobassana. La nuova proprietà non dovrà lavorare solo ed esclusivamente sull'aspetto sportivo, ma anche su quello sociale. Il Campobasso, sotto la gestione precedente, è diventato un fatto davvero per pochi intimi. I dirigenti uscenti sono stati in grado di creare grandissimo disinteresse intorno alla squadra di calcio. Prova ne siano le presenze allo stadio ed il calore del pubblico gradualmente scemato. L'esempio più clamoroso va fatto ripartendo dalla finale playoff di Fano, dove nelle Marche migrarono circa 700 campobassani, fino alla media delle gare interne dell'anno appena chiuso, che è stata di 350 spettatori a Selvapiana. Il lavoro più importante probabilmente va fatto proprio sotto questo aspetto, oltre che ovviamente anche sotto quello societario. Altro tasto, quest'ultimo delicato per le questioni strettamente finanziarie, ormai note a tutti. L'Olimpia agnonese è ancora impegnata sull'allargamento societario. Prima di allestire la squadra, resta l'obiettivo di allestire un organico giovane tra staff tecnico e rosa. Basket prende forma il Globo Isernia. La squadra bianco-celeste deve ancora scegliere il coach. Per il Globo Isernia inizia una nuova vita. Con l'ufficialità del ripescaggio in Serie B dopo la brutta stagione scorsa, l'attenzione ora si sposta sulla ricerca di uno sponsor. In attesa di sistemare questo importante aspetto, il DS Caruso è al lavoro per allestire un roster competitivo, che possa regalare emozioni al pubblico isernino. Ricordiamo che il Globo sarà inserito nel girone D, dove ci saranno squadre provenienti dal Lazio, Sicilia, Sardegna, Campania e Calabria. I primi movimenti sono stati le riconferme dell'ala Claudio Patani, che nell'ultima stagione ha viaggiato con 10 punti di media, e del play Nando Smorra. Mentre per quanto riguarda i nuovi, la società Pendra ha già firmato il playmaker Andrea Murolo, classe 96, che l'anno scorso ha contribuito alla vittoria di Cuore Basket Napoli nel girone B. La guardia Fabio Riccio, classe 90, eccellente tiratore e giocatore esperto, l'anno scorso con il Neapolis Basket Casavatore, metteva a referto una meta di 18 punti a partita. Mentre sotto canestro è stato preso il pivot Stefano Saletti, classe 97, 2 metri per 105 kg di peso, con lui si punta un gioco fisico sotto i tabelloni, con il compito di prendere il maggior numero di rimbalzi sia difensivi che offensivi. Nella scorsa stagione ha militato prima a Valmontone per poi finire a Maddaloni. L'ultimo colpo invece è di poche ore fa, e si tratta del giovanissimo Alberto Razzi, alla classe 97 proveniente dal Bastia Umbra, squadra di Cisilver, dove viaggiava con una media di 8 punti a partita. Roster quindi completo all'80%, mancano 2-3 elementi che verranno ufficializzati nei prossimi giorni. Capitolo coach, la società vuole scegliere bene, e al vaglio ci sono 2-3 profili, e si prenderà tutto il tempo necessario prima di rendere noto il nome. Il tempo c'è, il campionato inizia il 1 ottobre, mentre domani ci sarà il sforteggio dei calendari, e il Globo vuole arrivarci pronto. Palla canestro femminile, domani mattina alle 11, conferenza stampa di presentazione della nuova società Magnolia Basket Campobasso, che prenderà parte al campionato di serie A2 femminile. Calcio a 5 di serie B, questa mattina i legali della Chaminade hanno illustrato le motivazioni dell'esito positivo dell'udienza al Tar Molise relativa all'impianto sportivo Don Luigi Sturzo. Avvocato Cenicola e l'Avvocato Trotta che hanno sostenuto le ipotesi della Chaminade, dunque c'è stato questo provvedimento, Avvocato Cenicola del Tar, che in sostanza ha rigettato l'istanza di sospensiva, proposta dall'Associazione Quartiere Nord. Sì, il Tar si è pronunciato nell'ultima Camera di Consiglio a favore delle tesi sostenute dalla Chaminade, ma soprattutto riconoscendo la validità del progetto presentato alla Chaminade alla gara bandita al Comune di Campobasso, nell'ambito del progetto vi era appunto il quadro economico che è stato ritenuto assolutamente congruo e fattibile dal Tar, seppur in sede cautelare. Rispetto alle censure mosse dall'Associazione Campobasso Nord che riteneva le proposte progettuali della Chaminade non fattibile, per cui l'offerta non attendibile è come tale da escludere. In realtà, ripeto, il Tar ha sposato un po' la linea difensiva da noi sostenuta, della Chaminade, per cui ha ritenuto l'offerta congrua e così si potrà dar corso a questi nove anni di gestione che sostanzialmente è una gestione innovativa rispetto a quello che era il pregresso perché sono previsti importanti lavori di riqualificazione ormai necessari per queste strutture, ormai un po' obsolete che sicuramente garantiranno migliori e maggiori servizi alla collettività e tutti i fruitori di questi impianti sportivi. Certo, perché la Chaminade ha anche precisato proprio questo aspetto che provvederà alla ristrutturazione di alcune strutture sportive. Esatto, nel progetto della Chaminade vi è una importante attività edilizia relativamente a questi impianti, soprattutto volta all'efficientamento energetico degli spogliatoi per farli consumare di meno e appunto rendere la gestione più economicamente profittevole perché con utenze a costi più bassi chiaramente si riesce a gestire e ad avere migliori ritorni economici ma anche a rendere più comodi e confortevoli gli impianti anche perché diciamo in linea con i tempi e con le esigenze dei fruitori. Oltre all'importante attività sportiva di cui poi insomma il collega Trotta vi illustrerà l'attività della Chaminade sul piano diciamo sportivo professionistico o semiprofessionistico per meglio dire. Sì, allora avvocato Trotta adesso che succede? Perché queste chiavi ancora non ce le ha materialmente la Chaminade. Siete questo che dopo questa importante pronuncia che tra l'altro riconosce la validità del progetto della Chaminade e chiederemo al Comune di procedere alla consegna della struttura cioè il Comune dovrà prima prendere la struttura dal quartiere Nord che attualmente la detiene e poi dovrà consegnarla alla Chaminade e stipulare il contratto definitivo. Questo perché? Per consentire alla Chaminade di programmare la stagione sportiva ricordo che la Chaminade è una delle società che in Molise gioca a livelli più alti gioca nella Serie B di calcio a 5 e l'Under 21 nazionale l'Under 21 o non si sa forse quest'anno l'Under 19 di calcio a 5 e quindi gioca e si confronta con realtà importanti e ha bisogno ovviamente di una struttura adeguata per poter supportare questa attività sportiva non solo ma c'è anche interesse di dare la possibilità a chi fruiva della struttura precedentemente non solo di continuare a fruirne ma di fruirne in modo migliore perché sono previsti e lo diceva il collega e aggiungo a quello che diceva il collega non solo interventi di qualificazione nello spogliatoio ma anche interventi per rendere la struttura più fruibile e diversamente abili quindi abbiamo interesse a che la Chaminade possa rientrare in possesso della struttura il prima possibile per programmare nel migliore dei modi la stagione sportiva e tutti i lavori che devono essere messi in opera sulla struttura quindi proprio brevemente insomma passerà solo qualche giorno per la consegna voglio immaginare perché altrimenti mi auspico proprio di sì e noi oggi stesso insieme agli altri colleghi che li voglio ricordare oggi non sono qui presenti Massimo Romano e Pino Nuta sicuramente con Enrico Ceniccola faremo sicuramente una nota con cui inviteremo il Comune di Campobasso a procedere senza ulteriore indugio alla riconsegna perché a questo punto dopo che è stata rigettata la distanza cautelare dopo che tra l'altro nel provvedimento diciamo tra le righe il Tar ci ha fatto capire che potremmo avere ragione anche nel merito non c'è più sicuramente nessuna ragione per ritardare la riconsegna Calcio regionale la SD Isernia Football Club ha organizzato uno stage per giovani calciatori nati dal 99 al 2001 appuntamento giovedì e venerdì alle ore 16 allo stadio Mario Lancellotta tutti gli atleti dovranno essere muniti di un certificato medico in corso di validità e del nulla osta della società di appartenenza tornei estivi prende il via mercoledì il Boiano Mondial come sempre tante le discipline sportive dodicesima edizione per il Boiano Mondial dal 26 luglio al 12 agosto il via al torneo dei tornei denominazione nata negli anni visto l'elevatissimo numero di competizioni sportive nel programma fiore all'occhiello il 3 contro 3 di calcio il più longevo del Molise e d'Italia con le 12 edizioni consecutive poi volley misto e amatoriale tesserati street basket ping pong calcio 3 contro 3 femminile amatoriale tesserati attesissimo torneo di calcio balilla subuteo 3-7 freccette il gioco da tavolo alla conquista di Bovianum e le novità del 3 contro 3 di calcio over 40 e torneo FIFA 2017 alla Playstation il tutto sotto l'attenta guida degli organizzatori storici Elio Perrella Claudia Spina Marino Dell'Omo Gaetano Ricci William Facchino e tanti altri ragazzi che collaborano con il torneo previste oltre 200 squadre nei vari sport con oltre 500 atleti di tutte le età impiegati nelle varie discipline questi numeri impressionanti hanno di fatto portato il Boiano Mundial alla definizione di torneo dei tornei come dicevamo prima programma ricco che si amplia con le tre serate speciali il 7 agosto il Mundial Inda Street uno degli eventi maggiori a livello nazionale di calcio 3 contro 3 48 squadre in rappresentanza di 48 paesi si sfideranno in un giorno solo per arrivare al trofeo tantissimi campi allestiti in piazza a Boiano per le eliminatorie poi la corsa alla Final 8 per arrivare alla storica PG Arena l'8 agosto al parco giochi i famosissimi giochi popolari inseriti nel programma del Boiano Mundial una serie di attività a squadre della tradizione culturale boianese da anni fiore all'occhiello dell'estate matesina infine il 9 agosto la serata di beneficenza con ospite d'eccezione Stefano Patriarca pallovolista agnonese doc campione d'Italia nel 2013-2014 oltre le sfide all star su più sport tra atleti divisi in rappresentanti della provincia di Sernia e quella di Campobasso il tutto con una serie attività con il risvolto benefico insomma un programma ricco serate all'insegna del divertimento e dello sport di livello con tantissime presenze ogni sera e in particolare nelle giornate conclusive e speciali tutto pronto come detto per una nuova avventura targata Boiano Mundial domani sera conferenza stampa poi il via alle ostilità sportive a partire da mercoledì e mi raccomando gasatevi gasatevi e dovete spaccare tutto a proposito di manifestazioni estive anche quest'anno nel cartellone degli appuntamenti ricesi il torneo Madonna del Carmine ha riscosso un grande successo Michele Tronca allora 23 edizioni sono andate in archivio credo che alla fine ci sia il tempo dei bilanci ma anche un po' della stanchezza che è fisiologica dopo questa organizzazione ma soprattutto dopo il torneo stesso che dura circa un mese sì infatti è un mese siamo qui al campo non è soltanto però questo diciamo il tempo il tempo dei preparativi e c'è diciamo che partiamo un paio di mesi prima per organizzare con le squadre con gli sponsor c'è un lavoro dietro abbastanza cospicuo importante e poi il mese qui è ancora più però diciamo che siamo contenti perché il pubblico ha risposto bene è stato un torneo tranquillo non c'è stato nessun episodio particolare quindi siamo soddisfatti diciamo abbiamo sentito qualche parere ecco chiaramente il campo è sempre il padrone il giudice supremo qualcuno a Riccio ovviamente era scontento nessuno è colpevole di questo che non sia arrivata in finale una squadra di Riccia questo forse ha testimonianza che i riccesi ci tengono tantissimo vorrebbero sempre che in finale ci fosse una squadra del paese del comune eh sì questo diciamo anche a noi non è che dispiace però fa sempre piacere avere una squadra del paese c'era una squadra abbastanza attrezzata per arrivare hanno perso in semifinale per due episodi ma il calcio è così poi una partita sì con torneo è difficile è difficile pronosticare la finale però l'anno prossimo magari con qualche rinforza arriveranno in finale la squadra di Domenico Scarnata è arrivata in finale inedita perché non aveva mai partecipato contro invece la squadra di Domenico Martinelli che l'anno scorso aveva fatto e perso la finale dunque due squadre che si sono fatte valere è stata una bella sorpresa questo Scarnata costruzioni sì diciamo che è una finale a sorpresa in un certo senso però dobbiamo dire che sono due due bei gruppi di ragazzi che sono giocano insieme tutto l'anno sia la squadra di mister Martinelli quest'anno ha vinto il campionato di promozione con qualche innesto di qualche ragazzo abbastanza abbastanza bravo che ha fatto la differenza tipo Valentino con la doppietta in finale e anche la anche Scarnata la costruzione diciamo è la base della Scaminate che si è comportata benissimo nel campionato di serie B di calcio a 5 con qualche innesto anche questo di Paduano Leccese il portiere Gaetano Bovi diciamo che hanno dato quella quella spend in più per il calcio a 11 ecco diciamo che riempie gran parte dei tornei estivi questo della Madonna del Carmine di Riccia chiaramente ci sarà un periodo di riposo poi ci si rimetterà in moto almeno quantomeno col pensiero perché poi l'organizzazione è sicuramente complessa elaborata e va curata nei dettagli non dico tutto l'anno ma comunque i particolari vanno curati sì sì bisogna ripartire da subito perché come hai detto tu ci sono molte cose da curare da preparare e quindi non resta che che curare diciamo che vi aspettiamo per l'anno prossimo la 24esima edizione sperando che anche l'anno prossimo vada tutto bene si terrà il 6 agosto il secondo mini slalom San Giuliano del Sannio si partirà dal mattino presto con le sessioni di verifica di concorrenti e vetture per poi dare il via alla gara subito dopo la premiazione inoltre si svolgerà una serata il cui fine ultimo è quello di raccogliere fondi da devolvere al progetto di riparazione dell'orologio della torre Marchesale che domina la piazza stessa volley proseguono le attività della nuova pallavolo campo basso impegnata nel campus estivo Lucia De Soccio prosegue l'attività della nuova pallavolo campo basso anche d'estate come ormai da anni è attivo il campus estivo si ormai è consolidato da più di 20 anni il nostro campus diciamo che per noi a prescindere dal discorso affettivo che abbiamo per questa situazione ultimamente lo facciamo con grande impegno per cercare di mantenere un po' le spese che affrontiamo in inverno per questa palestra è terminata tra l'altro una stagione per voi però anche se prosegue l'attività ricca di soddisfazioni per quanto riguarda anche il settore giovanile con l'onere e l'onore di rappresentare il Molise in diverse categorie nelle fasi nazionali dei campionati sì diciamo che quest'anno è andata anche contro le previsioni abbiamo vinto l'under 18 direi inaspettatamente perché non era un gruppo consolidato per vincere già un campionato l'under 18 sono tutte 2000 per cui saranno ancora un altro anno l'under 18 l'under 16 l'abbiamo regalata le ragazze hanno ben pensato di fare regali ancora prima di Natale vabbè l'abbiamo buttata all'aria coscienziosamente e coscienziosamente ne prendiamo atto per organizzarci meglio per evitare certi errori l'under 14 è andata benissimo per cui diciamo siamo abbastanza soddisfatti lo possiamo dire la nuova pallavolo Campobasso ha più di 30 anni nel panorama molisano se le partite 30 anni fa ad oggi com'è il movimento della pallavolo allora 1984 2017 allora il movimento è migliorato sotto l'aspetto qualitativo un po' meno sotto l'aspetto dei numeri perché concorrenze ce ne sono tante la scuola assorbe molto gli impegni dei ragazzi la popolazione demograficamente sappiamo benissimo che a una certa età nella nostra città fuggono per andare all'università per cui noi abbiamo qualche piccola flessione però lo sappiamo ci organizziamo andiamo avanti anche quest'anno perderemo delle atlete per per università e per questioni di lavoro però per noi non è assolutamente un problema ci organizziamo lavoriamo quel che abbiamo cerchiamo di farlo al meglio è pur vero che però la nuova pallavolo Campobasso può contare su un settore giovanile alle spalle forti perché riuscite comunque bene bene sempre a effettuare questo cambio generazionale locale perché voi non andate a comprare diciamo in questo modo giocatrici fuori ma mettete nel campo e permettete alle molisane di poter avere un'esperienza importante anche fuori regione sì sicuramente questa è la nostra politica ora stiamo facendo anche dei progetti con paesi limitrofi con altre società soprattutto del Basso Molise una collaborazione tecnica che ci vede partecipi su più fronti perché chiaramente il momento è particolare però noi dobbiamo sempre mettere in campo ragazze della nostra regione poi chiaramente siamo consci che non possiamo competere con campionati di alto livello anche perché ahimè sponsor non ce ne sono molti ciclismo successo per il Memorial sulle tracce di Enzo Macchia la ciclistica Pentria prosegue il lavoro per gli altri appuntamenti estivi dietro le quinte c'è un grande lavoro ci sono tanti collaboratori che contribuiscono alla buona riuscita della manifestazione tra questi c'è Gaetano Rossi che è da sempre appassionato di ciclismo sì c'è una bella partecipazione questa è una prima edizione e noi speriamo di portarla ancora a numeri molto più elevate tant'è vero che si sta già pensando per il futuro di farla a numero chiuso proprio per fare in modo di poter gestire al meglio il gruppo che arriva presente a questa manifestazione non poteva essere diversamente la signora Milena Macchia un bel ricordo di suo marito è un ricordo che ingangerebbe fino alla fine io sono emozionata commossa per tutte queste cose che i soci ciclisti mi hanno hanno tributato a mio marito e sono orgogliosa e contenta di avere avuto un commegno che era marito molto faceva tutto padre figlio tutto 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 era qualcosa di eccezionale e io che non grazie nessuno meglio di lei può descrivere la grande passione che aveva per il ciclismo suo marito oltre a questo ma non solo per il ciclismo ma perché lui è stato sempre uno sportivo perché ha praticato a livello agonistico il pattinaggio su strada poi ha praticato tennis e poi infine la bicicletta cosa si sente di dire a questi organizzatori della manifestazione un grazie grande con tutto il cuore questa sera secondo appuntamento con il festival nazionale del teatro popolare della tradizione a cura dell'associazione il nostro quartiere San Giovanni dalle 21 la compagnia quelli che il teatro di Nola presenteranno lo spettacolo una notte con Dora l'ingresso è libero bene è tutto per questa edizione del nostro TG Sport buon pomeriggio